Torniamo a parlare dell'ufficio Europa. Nei giorni scorsi il segretario cittadino del PD Ivo Cigna aveva affermato in parole povere come questo ente sia ridotto a un professionista esterno che legge le gazzette, mentre Francesco Dolce aveva dichiarato che l'ufficio Europa è la più fantasmagorica delle incompiute. Oggi invece Ermanno Pasqualino di Alleanza per la Città in una lunga nota afferma. Le affannose dichiarazioni sulla stampa del PD in tema di ufficio Europa ci costringono ad ulteriori precisazioni. Nessuno, né l'amministrazione né i partiti che compongono l'alleanza, ha mai definito uno spreco di denaro la proposta dell'ex assessore del PD per l'impiego di 100.000 euro da destinare a professionisti esterni per la progettazione dei bandi europei. Ma quella proposta era strategicamente perdente, se calata dall'alto. I professionisti esterni devono assistere una programmazione dell'amministrazione messa in campo con la costituzione dell'ufficio Europa, in modo trasversale da parte di tutti i dirigenti del Comune. Definita la strategia, è stato affidato un primo incarico di 8.000 euro all'architetto Antonio Luglio, un professionista serio, e adesso si è deciso per un bando pubblico da 25.000 euro. È difficile comprendere il nervosismo del Partito Democratico di fronte ad un risparmio ottenuto dall'amministrazione. Paradossale che un partito, scappato a nottetempo dalle proprie responsabilità, operi tali critiche verso un'amministrazione che, proprio da quando il PD non c'è più, ha registrato un evidente cambio di passo. Il PD, conclude la nota, chieda ai dipendenti che non erano integrati nelle unità operative, che non erano messi in condizione di lavorare, se la rotazione del personale non sia stata utile e necessaria.